Alla vigilia di Natale gli auguri speciali del governatore Gianni Chiodi e del sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Per la prima volta Teleponte trasmetterà in diretta questa sera dalle ore 23 e 30 la tradizionale messa della vigilia di Natale ufficiata dal vescovo Michele Seccia. Natale è all'insegna del low cost, la crisi ha generato una flessione negli acquisti. Emergenza rifiuti a Giulianova, il sindaco Mastromauro ordina all'ecologica Sangro di lavorare anche domani. Presentato il calendario della banca di Teramo le foto sono state realizzate come di consueto da Fabrizio Scrocchini. Mercoledì prossimo l'imprenditore romano intenzionato ad acquistare il Giulianova incontrerà nuovamente il sindaco. Il tecnico del Teramo Roberto Cappellacci tira le somme al termine del girone di andata, chiuso in vetta a 42 punti. La banca Tercasteramo in palestra anche il giorno di Natale per preparare la sfida di martedì al Palas Capriano contro Roma. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Teleponte. Buona vigilia di Natale a tutti. Buonasera, apriamo il nostro telegiornale proprio restando in tema, quello del Natale. Andiamo a sentire gli auguri di Natale del Presidente della Regione Gianni Chiodi e del sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Vediamo. Vigilia di Natale, tempo di auguri e ovviamente gli auguri alla città di Teramo fatti da chi? Dal governatore della Regione Abruzzo Gianni Chiodi e dal sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Governatore, gli auguri alla città. La sua città amministrata come sindaco e adesso invece da governatore della Regione. Gli auguri alla città, gli auguri ai Teramani che sia un Natale sereno, Natale felice, possibilmente un 2012 anche felice perché insomma c'è qualche problema, il Paese sta vivendo qualche problema ma bisogna viverlo con speranza, con ottimismo, bisogna alimentare la speranza perché la felicità non è necessariamente collegata alla capacità di consumare e quindi dobbiamo prendere atto di questo. Veramente tanti auguri a tutti i miei concittadini, sono orgoglioso, fiero di essere stato sindaco della città di Teramo, sono fiero e orgoglioso che in questo momento sia sindaco della città di Teramo Maurizio Brucchi e spero che la città possa continuare a crescere così come è cresciuto in questi anni. Ma ha detto bene il governatore, insomma serenità, tanta serenità, trovare insomma sotto l'albero un po' di pace, di serenità e recuperare un po' di fiducia nel prossimo e soprattutto nel futuro, che non sarà un futuro facile. Un pensiero particolare a chi questo Natale lo passerà da solo, alle persone che stanno veramente in difficoltà economica, a quelle che sono ricoverate in ospedale, a quelle che magari si troveranno ad affrontare il Natale in una casa di riposo da solo perché magari non ha più nessuno, quindi credo che un pensiero particolare debba andare a loro e poi insomma cerchiamo di affrontare questo fine dell'anno con uno sguardo, con un po' di ottimismo verso il futuro, guardiamo il mezzo bicchiere pieno, anche se non sarà tanto pieno perché oggettivamente il momento è difficile, però un po' di fiducia, un'iniezione di fiducia aiuta, quindi davvero auguri di buon Natale e poi vi aspetto tutti quanti il 31 dicembre in Piazza Martri ci sarà anche il governatore per brindare all'arrivo del nuovo anno, insomma ripeto, tutti quanti insieme. E questa sera Teleponte trasmetterà in diretta dal Duomo di Teramo dalle 23.30 la tradizionale messa della Vigilia di Natale ufficiata dal Vescovo Monsignor Michele Seccia, sentiamo. È il giorno della Vigilia di Natale, ovviamente fervono i preparativi qui al Duomo di Teramo per la messa solenne di mezzanotte di questa notte celebrata dal Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Michele Seccia. Ebbene per la prima volta la novità assoluta di questa notte è che la nostra emittente Teleponte trasmetterà in diretta l'intera funzione. Sarà una concelebrazione ovviamente presieduta dal Vescovo direttamente qui dal Duomo di Teramo. Collegamento alle 23.30 e poi a mezzanotte la messa che avrà ovviamente il suo svolgersi normale. Vedete alla mia destra è ancora vuota il baldacchino dove sarà posizionato proprio all'ingresso dei celebranti, dei concelebranti la statua del bambinello di Gesù Bambino e poi ovviamente ci sarà l'intera funzione. Dunque per non perdere, per chi non potesse uscire questa sera di casa, per chi è impossibilitato, per gli anziani, per i malati c'è la possibilità di vedere, di seguire la messa di mezzanotte di Natale in diretta su Teleponte qui dal Duomo di Teramo. Un Natale sotto il segno del low cost, la crisi si fa sentire, ha generato una vera e propria flessione negli acquisti che si registra in tutti i settori dai regali alla tavola fino alle classiche gite fuori porta. Vediamo. Il Natale è al tempo della crisi, siamo ormai agli sgoccioli, sono gli ultimi giorni per gli acquisti natalizi e abbiamo chiesto in giro quanto la crisi abbia inciso sulle tasche dei cittadini. Allora, come inizio è iniziato un pochino sotto tono, ma avendo un articolo diciamo di consumo come le calze, l'intimo, in questo periodo per noi va bene. Non rispetto all'anno scorso, leggermente o meno, però potrebbe andare meglio se nel corso principale ci fossero più attrazioni, più luce, dato che è un corso buio. La spesa per i regali sta dunque risentendo fortemente della crisi, con una flessione generale che si aggirerebbe attorno al 16% e una forte propensione al riciclo e al regalo fai-da-te. Aumentano solo gli acquisti di confezioni alimentari e di prodotti gastronomici insieme a quelli di salute e benessere. Male abbigliamento, calzature e high-tech. La flessione colpisce anche i più piccini che vedranno arrivare sotto l'albero regali più duraturi come lezioni d'arte o gite istruttive. Un Natale sotto il segno del low cost dunque, che investe però tutti i settori. L'effetto Monti si fa infatti sentire anche sulle tavole, dove secondo le statistiche salmone e foie gras lasceranno il posto a pizza e prodotti del territorio meno cari. I piatti tipici che resistono alla crisi sono zampone, baccalà con la polenta, ravioli e cappelletti. Una flessione di bene il 30% rispetto all'ultimo triennio si registra anche nel comparto vacanze. Saranno 10 milioni gli italiani che fra Natale, Capodanno ed Epifania ve leggeranno verso lì di lontani. E proprio prima della Befana partiranno ovunque i classici saldi di fine stagione, con la speranza che almeno in quell'occasione possa esserci una completa inversione di tendenza. E adesso apriamo la pagina della cronaca. Entra in un appartamento per rubare, approfittando del fatto che l'anziano che vi abita era a letto impossibilitato a camminare perché in dialisi è stato lo stesso proprietario a permettere che i carabinieri arrestassero in flagranza di reato un romeno dei 33 anni, domiciliato a Silvi Marina e incensurato. L'anziano ha telefonato ai militari della stazione di Mosciano, urlando e chiedendo aiuto perché il giovane si era introdotto nella sua camera da letto. Il romeno ha tentato la fuga ma è stato rintracciato a bordo di un furgone nelle campagne circostanti. I carabinieri, diretti dal maresciallo Paolo Gentile, lo hanno identificato anche sulla base della descrizione somatica fornita dalla vittima del tentativo di furto. A bordo del furgone c'erano arnesi tipici da utilizzare nello scasso e nei furti. È stato arrestato con l'accusa di tentativo di furto aggravato e rinchiuso nel carcere Terramano di Castronio. La scorsa notte personale della questura di Terramo e della polizia stradale ha effettuato un controllo straordinario del territorio per la prevenzione dei reati in genere, per garantire sicurezza anche a coloro che desiderano divertirsi in tranquillità nei giorni immediatamente precedenti il Natale. Tra le altre attività si è proceduto al controllo in un noto locale pubblico di Giulianova. All'atto del controllo si è potuto verificare che il locale, sfruttando una licenza comunale per intrattenimenti musicali, di fatto organizza delle vere e proprie serate danzanti abusando dunque del titolo concesso, soprattutto mettendo a repentaglio l'incolumità degli avventori, peraltro presenti in numero abbondantemente superiore rispetto quanto autorizzato per l'intrattenimento musicale. Per le anomalie riscontrate il titolare della licenza verrà deferito all'autorità giudiziaria, cui sarà richiesto il sequestro preventivo del locale e verrà inoltre sanzionato amministrativamente. Nella stessa nottata il personale della polizia stradale ha proceduto al controllo di 10 auto identificando 13 persone, elevando 3 contravenzioni al codice della strada. È stata inoltre ritirata una patente ad un automobilista sorpreso a guidare con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Hanno rischiato di morire asfissiati dal fumo sprigionato dalle fiamme che avevano avvolto l'albero di Natale. La disavventura è capitata a due coniugi in un'abitazione di Castelli nella frazione di Colle d'Oro. Nella tarda serata di ieri, forse per un cortocircuito e per il surriscaldamento delle luci dell'addobbo, l'albero di Natale è andato a fuoco, bruciando in pochissimo tempo e riempiendo di fumo tossico l'appartamento. L'intervento dei vigili del fuoco di Teramo ha evitato conseguenze peggiori. Due stanze sono state chiuse, i coniugi con un principio di intossicazione sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Teramo dove sono stati medicati. Bene, speriamo che non succeda la stessa cosa per i presepi perché si è svolta in municipio a Teramo la premiazione del primo concorso dei presepi riservato ai quartieri e alle frazioni di Teramo. Vediamo. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucche, ha premiato i vincitori del primo concorso dei presepi delle frazioni e dei quartieri. Il premio Armonia è stato consegnato al presepe di Valle San Giovanni, quello per l'originalità a Spiano e il premio Scenografia al presepe di Sardinara. Sì, primo premio Spiano, Valle San Giovanni Sardinara. Insomma, io non ho avuto modo di vederli direttamente i presepi, però mi hanno detto che sono davvero fantastici. Quindi mi fa piacere della disponibilità e della passione che i cittadini delle frazioni hanno messo in questa iniziativa che l'assessore Campana ha voluto mettere in atto. Brucchi ha anche annunciato maggiore attenzione per le frazioni già a partire dal prossimo anno. Io lo continuo a ripetere, noi in questi prossimi due anni ci dedicheremo veramente in maniera determinata per dare un riscontro al territorio frazionale che se lo aspetta e che aspetta anche da qualche tempo e quindi è giusto che sia così, però devo dire che loro sono fantastici perché tutte le volte che gli proponiamo qualche iniziativa veramente rispondono alla grande. Questo vuol dire che comunque apprezzano il fatto che l'amministrazione c'è, c'è il rispetto per loro, c'è il rispetto per le cose che fanno e anche se non riusciamo a dare proprio tutte le risposte che loro in qualche modo vogliono, però ci siamo. D'altra parte adesso abbiamo anche le risorse perché sono arrivati i fondi PISO, una parte di questi fondi verranno utilizzati per dare risposte alle esigenze delle frazioni e quindi insomma arriveranno anche le opere pubbliche. E a Giulianova proseguono le polemiche tra maggioranza e opposizione tra centrosinistra e centrodestra. Qualche giorno fa c'è stata una conferenza stampa del PDL nel corso del quale gli esponenti centrodestra hanno fortemente criticato l'operato dell'aggiunta Mastromauro e c'è una nota di replica della lista civica per Francesco Mastromauro, sindaco. Nella nota si legge se la capacità propositiva del PDL di Giulianova è quella che Vasanella, Rota e Antelli esprimono in Consiglio Comunale, ovvero pressoché nulla è lo spirito critico e quello dei simpatici manifesti irriverenti e pieni di strafalcioni apparsi nelle ultime settimane sulle bacheche cittadine, ecco che i PDLini nostrani diventano un tutt'uno con quella filiera tanto auspicata dal centrodestra ma bocciata dai cittadini. In questo mare di decisioni non prese scrive la lista civica che appoggia Francesco Mastromauro di errori, di scelte e di priorità sbagliate. Quali sono state le idee e le proposte del PDL a Giulianova? La lista civica per Francesco Mastromauro, sindaco, esprime tutto il suo sostegno al sindaco che sta operando pur tra le tante difficoltà determinate sia da scelte delle precedenti amministrazioni sia dall'attuale situazione economica generale al meglio e con risultati fondamentali per Giulianova. Restiamo a Giulianova. Il sindaco Francesco Mastromauro ha chiesto alla società ecologica Sangro subentrata alla Suggesa per quanto riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti di intervenire con urgenza su tutto il territorio per rimuovere il pattume presente lungo le strade. Squadre di operai a lavoro anche domani, giorno di Natale dalle 3 di notte sino alle 10. Vediamo. Sindaco Mastromauro, Giulianova a ridosso delle feste di Natale in pratica ha vissuto il problema dei rifiuti, è intervenuta l'ecologica Sangro, lei ha chiesto interventi anche per il giorno di Natale. Dice bene, io intanto mi scuso con i cittadini che hanno dovuto sobbire questo disagio ma come lei sa proprio venerdì scorso Suggesa dopo due giorni di sciopero dei dipendenti che non avevano avuto il pagamento degli stipendi a causa dell'amorosità degli altri comuni ci ha comunicato venerdì sera che non era più in grado di espletare il servizio. Ho fatto un'ordinanza contingibile e urgente, sabato la nuova società ha incominciato a lavorare, lunedì abbiamo fatto la trattativa per il riassorbimento delle maestranze e ho chiesto con l'ordinanza che venissero riassorbite le maestranze 40 dipendenti che rischiavano di trovarsi in mezzo alla strada dall'oggi al domani, martedì sera è stato raggiunto l'accordo, mercoledì e giovedì hanno fatto le visite mediche. Ho fatto un'ordinanza ieri sera con la quale ho imposto alla società di lavorare sia oggi che domani giorno di Natale per tutta la giornata quindi far fronte all'emergenza a pieno organico per ripristinare la situazione di normalità in maniera tale che poi dal giorno dopo Santo Stefano si riprenda la raccolta differenziata porta a porta regolarmente. Una grande soddisfazione così Emiliano Di Matteo, vicepresidente del gruppo PDL in consiglio regionale, commenta l'accoglimento da parte del tavolo tecnico regionale della richiesta promossa dal comune di Nereto e dalla provincia di Teramo con apposita delibera dell'indirizzo turistico del polo scolastico di Nereto. Un ringraziamento particolare è sentito, dice Di Matteo, voglio rivolgerlo al sindaco di Nereto Stefano Minora che con me ha sostenuto sin dall'inizio questa battaglia e all'assessore regionale Paolo Gatti determinante affinché venisse accolta. Restiamo in qualche modo in tema perché parliamo di regione che ha approvato una delibera che prevede un nuovo sistema di accreditamento dei servizi dedicati alla prima infanzia. Il servizio. Su proposta dell'assessore all'istruzione e alle politiche sociali Paolo Gatti, la giunta regionale ha approvato una delibera che disciplina la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia. Non un nido qualunque ma un nido di qualità. Questo è l'obiettivo, commenta l'assessore Gatti, che ci poniamo con questa sperimentazione grazie alla quale la disciplina di accreditamento dei servizi alla prima infanzia diviene di fatto uno strumento di qualificazione dell'offerta educativa. La regione Abruzzo si colloca così tra le regioni che sul piano giuridico e per efficacia ha creato le condizioni affinché i bambini possano trovare luoghi pubblici e privati che garantiscano i loro diritti di crescita, di cura e soprattutto di socializzazione e apprendimento. Puntiamo alla qualità dei formatori e con l'accreditamento, prosegue Gatti, poniamo fine alla confusione della meriede di figure professionali. Solo gli educatori laureati e aggiornati potranno occuparsi dei bambini. Dopo 11 anni completiamo il percorso previsto dalla legge 76 del 2000. Ringrazio, conclude Gatti, gli uffici e il nucleo di coordinamento pedagogico regionale che hanno a lungo lavorato per raggiungere un grande risultato per i bambini abruzzesi e per le loro famiglie. La giunta regionale abruzzese ha approvato un piano di circa 9 milioni per le imprese del settore turistico. Il servizio. Via libera della giunta regionale al programma di attuazione 2010-2011 che finanzia la legge 77 del 2000 sulle imprese turistiche. Lo ha comunicato l'assessore al turismo Mauro Di Dalmazio al termine della riunione della giunta regionale. Il programma di attuazione ha una dotazione finanziaria complessiva di 8 milioni 850 mila euro di cui poco più di 6 milioni di euro per l'annualità 2010 e 2 milioni 800 mila euro per il 2011. Il nuovo programma di attuazione intende promuovere la diffusione della cultura e della qualità attraverso l'aumento del numero delle imprese. In questo senso la dotazione finanziaria del programma attuativo della legge 77 sarà destinata ad agevolare gli investimenti effettuati da imprese e operanti nel settore del turismo che siano finalizzati al raggiungimento di elevati standard di qualità delle strutture ricettive. Di intervento molto importante per gli operatori turistici in un momento difficilissimo per l'economia e per gli investimenti privati ha parlato l'assessore al turismo Mauro Di Dalmazio. È un programma significativo e che rimarrà aperto ad ulteriori incrementi finanziari del fondo disponibile. Questi interventi dovranno essere riferiti alle strutture alberghiere, alle strutture ricettive all'aria aperta, alle strutture ricettive extra alberghiere e agli stabilimenti balneari. Le domande per la partecipazione al bando dovranno essere presentate a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando stesso sul Bura. Il Re dei Re è il titolo della sedicesima edizione del presepe vivente di Giulianova. La manifestazione si svolgerà nel cuore del centro storico giuliese il 26 dicembre dalle 18 alle 22 con ingresso libero. In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata al 6 gennaio prossimo. Il centro di fisiopatologia della nutrizione di Giulianova è stato declassato per decisione della ASL di Teramo. Da struttura regionale è stato trasformato in struttura locale. Ascoltiamo l'amarezza del dottor Paolo De Cristofaro che ha fondato e diretto il centro per anni. Dottor Di Cristofaro, il centro di nutrizione, di fisiopatologia della nutrizione che lei ha fondato, che lei ha voluto alcuni anni fa, scompare? Ma non è vero che scompare. Il centro della nutrizione era un centro di riferimento regionale, quindi aveva un ruolo importantissimo perché era l'unica struttura pubblica dedicata ai disturbi alimentari e all'obesità. E quindi credo che il declassamento da centro di riferimento regionale a struttura semplice ovviamente ha fatto perdere quella spinta motivazionale che teneva in piedi anche il centro con tutto il suo personale impegnato al massimo. Questa è una scelta dell'ASL, ma lei ha amareggiato comunque, lei ha diretto questo centro per tantissimi anni, ora va in pensione? Ma credo che allo stato attuale delle cose non esiste una prospettiva valida per questo centro, soprattutto per quanto riguarda la necessità di farlo crescere, di adeguarlo alla domanda reale. Quindi non essendoci questo tipo di investimento, avendo raggiunto il requisito pensionistico, io ho preferito prendere questa decisione. Si rinnova per la 39esima edizione, lunedì prossimo 26 dicembre, a partire dalle 18.30, il presepe vivente di Montepagano di Roseto. I quadri che raccontano l'avvento di Gesù si comporranno dal Museo della Cultura Materiale fino in Piazza del Municipio, dove sarà allestita la capanna con il bue e l'asinello per proseguire nei vicoli illuminati dalle torce. Il vecchio borgo sarà animato da oltre 100 figuranti che grazie alle scenografie e ai costumi d'epoca faranno tornare indietro nel tempo i visitatori per rivivere l'atmosfera magica della natività. È stato presentato il calendario della Banca di Teramo. Le foto sono state realizzate anche quest'anno da Fabrizio Sclocchini. Il servizio. Una tradizione che si rinnova, come ogni anno, la presentazione del calendario della Banca di Teramo con le fotografie di Fabrizio Sclocchini. Ma quest'anno ha un tema prezioso. Caro a tutti i teramani. Caro a tutti i teramani, ma che fa parte della nostra storia. Tutti i teramani sono legati a questa preziosissima opera di Nicola da Guardia Grele. Non è un'opera preziosa, è il capolavoro di Nicola da Guardia Grele. Stiamo parlando del paliotto d'argento che si trova nel Duomo. Sotto l'altare del Duomo. Tutti i teramani lo possono ammirare. E tra l'altro Nicola da Guardia Grele andò a vedere a Firenze la porta nord del Ghiberti. Il Ghiberti è stato un maestro del basso rilievo, del rilievo. Uno dei più grandi maestri del Quattrocento. E aveva fatto appena la porta nord. Lui è andato a vedere e ci sono molti segni di questo ricordo della porta del Ghiberti. Poi Ghiberti ha fatto anche l'altra porta, la porta del paradiso, più famosa ancora. Sembra nel Battistero San Giovanni. Ma devo dire che in realtà Ghiberti ha influenzato l'arte di Nicola da Guardia Grele che è tornato e lo ha seguito in questo gotico elegante, cattardo gotico con accenni a modernità. Ancora alle iniziative natalizie, l'Associazione Culturale Il Cantiere delle Arti con il patrocino del Comune di Basciano organizza il concerto di Natale. La manifestazione si terrà il 26 dicembre alle 18 presso la chiesa di San Flaviano nel centro storico di Basciano. Appuntamento oramai come sapete in Piazza Martiri della Libertà quest'anno con il capodanno Teramano. Gran mattatore della serata sarà il comico Vincenzo Olivieri. Vediamo. Al grido di non fare lo scompagnone, il comico abruzzese Vincenzo Olivieri invita tutta la cittadinanza a prendere parte al capodanno Teramano di Piazza Martiri della Libertà. In un mix di animazione, canti, balli e divertimento puro, Olivieri intratterrà il suo pubblico negli attimi che precedono la mezzanotte e fin quasi a mattina, attraverso i ritmi travolgenti della MoMA Band e con la collaborazione della conduttrice Maria Rita Piersanti, dei funamboli della Compagnia dei Folli e il DJ set di Giorgio Di Marcello, Simone Sbraccia e Funky Groover. Un saluto a tutti gli amici di Teleponte e vi aspetto in piazza il 31 dicembre per passare una serata magica per questo transito dal 2011 al 2012 insieme in questo anno nuovo che arriverà, di cui tanto si parla, sicuramente per vedere il bicchiere mezzo pieno perché poi a mezzanotte lo svuoteremo sicuramente noi. Quindi mi raccomando, in piazza a Teramo c'è da divertirsi, non fare lo scompagnone. Vincenzo Olivieri già in clima da Aveglione di Capodanno. Adesso andiamo a scoprire quali saranno le previsioni del tempo per la giornata di domani. Ci sembra di poter dire che chi voleva vedere qualche fiocco di neve o comunque la neve in città o in pianura credo che rimarrà deluso. Vediamo le previsioni del tempo. Previsioni per domani in provincia di Teramo. Al mattino cieli grigi con precipitazioni sparse su tutto il territorio provinciale. Neve a partire dai 700-800 metri. Nel corso del pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni a partire dai settori costieri e collinari dove inizieranno a prevalere le schiarite. Permanenza di rubi in montagna. Tra sera e notte tendenza a rasserenamenti estesi. Temperature insensibili e diminuzione. Massime comprese tra 6 e 9 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 8 e 11 sulle coste. Venti moderati nord orientali, mari poco mossi o mossi. Siamo allo sport. Iniziamo con il calcio e soprattutto parliamo delle vicende societarie del Giulianova Calcio. Un nuovo incontro tra il sindaco Mastro Mauro e l'imprenditore romano intenzionato ad acquisire il Giulianova Calcio. L'appuntamento è per il prossimo 28 dicembre. I due si vedranno a pranzo. Ascoltiamo il sindaco. Sindaco Mastro Mauro, che novità ci sono per il Giulianova Calcio? Lei è in contatto con un imprenditore, vuole ancora mantenere la massima riservatezza. Va di concreto? Di concreto c'è questo, che il presidente di Giulianova Calcio, come lei sa, 15 giorni fa è venuto da me e mi ha detto che non riesce più a gestire la società e mi ha chiesto di sondare la società per vedere se c'è qualcuno che lo vuole rilevare, che vuole rilevare il suo pacchetto azionario. Ho contatti, ho avuto dei contatti. C'è un imprenditore romano che ha manifestato il suo interesse. Io sto valutando la credibilità e la sua volontà di intavolare una trattativa con il presidente. Nei giorni prossimi lo incontrerò. Lo incontrerò di nuovo, intanto ringrazio di questo interessamento. Se ci saranno le condizioni, lo metterò in contatto con il presidente Agostino, poi naturalmente la trattativa la porteranno a loro. Secondo lei? Ma guardi, Lino, io posso rispondere per quello che faccio come sindaco. In questo caso mi sto facendo parte diligente perché mi è stato richiesto un intervento e come le sa l'ho fatto anche nei mesi passati quando c'è stato bisogno di portare nuove risorse per far fronte alle difficoltà della società. Si tenga sempre presente che questa è una società per azioni. C'è un momento critico sotto il punto di vista economico di questa società e non mi devo occupare di altro. Siccome il calcio a Giulianova fa parte della vita di tutti i giorni e dell'aspetto anche sociale, mi sto occupando per creare le condizioni affinché ci sia un avvicendamento. Spero che ciò vada in porto. E adesso parliamo del Teramo che riprenderà gli allenamenti la settimana prossima dopo tre giorni di pausa natalizia. Intanto facciamo il punto della situazione con questa intervista al tecnico biancorosso Roberto Cappellacci. Una sconfitta quella arrivata contro l'Ancona che comunque cambia poco per il Teramo. Forse c'è un po' d'amarezza perché è arrivata proprio contro i marchigiani. Non è vero neanche che cambia poco perché tra vincere e perdere la differenza era sostanziale. Però bisogna prendere atto che l'Ancona ha vinto e che l'ha fatto con una squadra forte che ci darà filo da torcere e che comunque insieme all'Ancona ci sono anche altre squadre. Abbiamo notato la ripresa di Civitanavese e San Benettese. Quindi chiudiamo questo girone d'andata a testa alta comunque per i punti fatti e per quello che abbiamo espresso fino adesso. Facciamo questa sosta che magari ci fa anche bene a questo punto. Auguriamoci di ripartire nel 2012 con lo stesso impeto, con lo stesso spirito che abbiamo avuto in questo scorso stagione. Se dovesse magari pensare a qualcosa su cui migliorare particolarmente ancora? Insomma, migliorare i punti in classifica, ripetere 42 punti dell'andata, onestamente mi viene difficile che si possa fare meglio. Anzi, mi viene da dire che sarà difficile ripetere 42 punti. Per quanto riguarda invece poi il gioco, comunque l'espressione in mezzo al campo della manovra, è chiaro che mi aspetto che facciamo sempre un passo in avanti come lo faranno anche altre squadre. Mi auguro soprattutto che non abbiamo infortuni, che la gente venga allo stadio a spingere la squadra, che la società sia sempre vicina come l'è stata fino adesso e che ci possiamo esprimere nelle migliori condizioni, così che se ci fosse anche una differenza tecnica tra noi e le altre squadre al nostro sfavore, poi magari con le cose fatte bene noi potremo stargli davanti. E adesso il basket. Nessuna festività natalizia per la Banca Tercasteramo. Considerato l'impegno di martedì sera contro Roma, la squadra di Ramagli si è allenata oggi a mezzogiorno e svolgerà una seduta anche domani alle 18. Noi torniamo alla realizzazione del nuovo yearbook che è stato presentato qualche giorno fa e ascoltiamo l'intervista al fotografo Maurizio Anselmi. Noi ci siamo incontrati a prodotto in corso e adesso i tuoi commenti a prodotto finito invece. Ma quello stavo dicendo prima, il lavoro dal punto di vista grafico e dell'impaginato è veramente molto molto bello. È chiaro che l'operazione era nata già prima, quindi sapevamo più o meno come doveva venire il lavoro e quindi anch'io ho lavorato fotograficamente tenendo conto di questo. Quindi lavorando molto sui primi piani, sui piani molto ravvicinati e questo ovviamente entrando anche durante la fase di gioco, ma non nel gioco durante la partita, ma nel gioco durante l'allenamento. Molto bella secondo me, è venuta invece la foto di copertina che come hai visto anche tu, mi sembra che c'era anche tu il giorno che la stavamo scattando, è stata realizzata con effetti di luce, con fumo, eccetera, eccetera. Quindi devo dire che nel complesso è venuto veramente un gran bel lavoro. Cosa fa di tanti scatti quella che sarà poi la tua scelta, singolarmente e comunque globalmente in tutto lo yearbook? Ma io principalmente quando rientro in studio, scarico le schede e guardo tutto il lavoro, mi faccio prendere principalmente dall'emozione. Cioè io scorro direttamente tutto, quando una cosa mi piace l'accantono, per esempio di un giocatore ne metto tre o quattro da parte e su quello poi do la mia preferenza, che generalmente è condivisa dalla parte grafica. Quindi diciamo che ormai la sintonia tra l'agenzia Mirus e me si è arrivati a tal punto che scorre tutto tranquillamente il lavoro. Qual è stato magari il giocatore che ti ha comunicato di più in maniera istintiva? Ma diciamo che non ce n'è uno in particolare. Ce ne sono alcuni che conosco meglio, come Lulli per esempio, che ormai l'ho fotografato talmente tanti anni. Anche lì dipende dal feeling. Anche di Brown per esempio è un ragazzo che si è prestato molto, quindi sorriso. Il problema è questo, che quando poi lavori direttamente a contatto e sei molto vicino all'atleta, corre il rischio di importunarlo oppure di scocciarlo oppure di metterlo in condizioni. Invece devo dire che questo più delle volte si è risolto abbastanza tranquillamente. Non perdete l'appuntamento con il TG Flash stasera alle 22.30, poi ci fermiamo con l'informazione che torna su Teleponte martedì alle 7 con Prima di Tutto e alle 14 con la prima edizione del TG Primo Piano. Ma questa sera non dimenticate assolutamente un appuntamento molto importante. A partire dalle 23.30 in diretta dal Duomo di Teramo, dalla Cattedrale, la messa della notte di Natale ufficiata dal Vescovo di Teramo e Atri, Monsignor Michele Seccia. Dunque appuntamento per chi non può uscire, insomma per chi resta a casa, può accendere il televisore, sintonizzarsi il Teleponte e vedere la messa in diretta, la messa di Natale dal Duomo di Teramo. È tutto, non resta che augurare Buon Natale. Buon Natale a tutti e grazie per l'attenzione. Buon Natale, arrivederci. Buon Natale, arrivederci.